Azioni differenziali. Ora il titolo è un po' ingannevole perché leggendolo si potrebbe pensare che questa vuole essere una relazione di calcolo numerico. Non è così. Non ho trovato un titolo migliore. Perché? Beh, vedete, innanzitutto sapete bene come me che la teoria delle equazioni differenziali è enorme, ha una letteratura enorme. E poi io non sono un matematico. E poi ciò che di elementare si può dire sulle equazioni differenziali è scritto ed è detto benissimo in tanti libri, in tanti buoni libri anche del liceo, immagino. E andare a ripetere le cose che stanno già scritte da altre parti aveva poco senso. Quindi mi sono chiesto che cosa poteva avere un valore didattico, nel senso poteva costituire qualche suggerimento, qualche indizio, qualche idea che poi la vostra esperienza, la vostra sensibilità può eventualmente adattare. Con un obiettivo, quindi, posto. Cosa vado a cercare? Qualcosa che possa servire al docente, se ne ha la possibilità, il tempo, le circostanze, gli studenti di buona volontà, eccetera, per smontare e rimontare il giocattolo dell'equazione differenziale, aprirlo, vedere come è fatto. Per fare questo, dopo averci pensato un po', mi sono accorto che il fatto di poter eseguire dei calcoli, adesso vedremo come, in qualche modo permetteva di smontare il giocattolo. È così, il titolo equazioni differenziali o integrazioni di equazioni differenziali sarebbe stato ingannevole per un verso. L'integrazione numerica lo è per un altro verso, qui non c'è calcolo numerico, sul serio. Vabbè, teniamocelo così e vediamo un pochino quali possono essere gli argomenti che ci interessano. Innanzitutto, qual è il motivo per interessarsi di equazioni differenziali? Vabbè, perché ogni volta che c'è un rapporto causa-effetto, in cui una causa ha come effetto la variazione di qualcosa, di una grandezza fisica, ma non solo di quella, noi abbiamo un'equazione differenziale. E' un esempio, il secondo principio della dinamica, citato, la forza produce una variazione della velocità. E quindi abbiamo scritto un'equazione differenziale. Equazione di Maxwell, le derivate del campo elettrico sono date dalla densità di carica, quindi se assegno la densità di carica ho la variazione spaziale del campo elettrostatico. E così via. Ma nascono naturalmente anche fuori dalla fisica, in biologia, modelli semplici per lo sviluppo di popolazioni batteriche. In economia, quanto vale il mio capitale a tasso fisso dopo tre anni? Io metto il tasso e voglio sapere come varia il mio capitale, assegno una legge e voglio sapere come varia, quanto si riduce o di quanto aumenta la mia popolazione batterica e così via. Quindi nascono in tanti campi, ogni volta che insomma abbiamo una variazione. Mentre un'equazione algebrica, alla quale lo studente è già suefatto, ha il concetto in sé di una bilancia, o due piatti di una bilancia. Su uno c'è questo, su quest'altro c'è un po' di roba, più un pezzo incognito. Quanto vale il pezzo incognito se la bilancia sta in equilibrio? Questo è il concetto di equazione algebrica. Quello di equazione differenziale invece è diverso. Se ho questa causa che mi dà queste variazioni, come cambia la grandezza che mi interessa? Ora, voi non dovete perdonare, ma quando si scrive qualcosa bisogna per forza scrivere anche qualcosa di leggermente, appena appena formale, non più di mezzorigo, altrimenti chi legge ha l'impressione che chi ha scritto non sa di che stia parlando. E allora mettiamoci la definizione di equazione differenziale del primo ordine con una notarella. Le note, in quello che dirò, sono la parte forse più interessante per me, gli arimetti, che quando scriviamo l'equazione in forma esplicita, come è mostrato nel secondo rigo, e parliamo di problema dei valori iniziali, quel problema dei valori iniziali è una dizione, un'espressione di origine storica. Vale a dire, perché il problema dei valori iniziali? Ma perché nei primi problemi, nell'ambito dei quali è nata la teoria delle equazioni differenziali, si trattava di meccanica, di dinamica. Quindi si trattava, a partire da un istante, predire l'evoluzione, conoscendo le variazioni. Ecco perché è rimasto poi il problema dei valori iniziali, dove quell'iniziale proprio era, inizialmente, in senso temporale. Oggi non lo è più, perché un matematico indica semplicemente assegnare il valore della funzione nel punto iniziale x0. x0 è la variabile indipendente, y è la variabile dipendente, y' la sua derivata prima. Esempio non banale. Beh, il primo esempio, che però non va la pena di riportare neanche, di equazione differenziale del primo ordine, sarebbe derivata di qualcosa uguale costante. Vabbè, non ne parliamo, è veramente troppo semplice. Prendiamo questo, invece, che è l'equazione che troviamo nel decadimento radiattivo. Il numero o la percentuale di atomi che decadono è proporzionale al numero di isotopi instabili presenti. O quello della decrescita o della crescita di una popolazione batterica. L'aumento in un intervallo di tempo è proporzionale al numero di batteri che già c'erano. Abbiamo una crescita di tipo esponenziale. O quella del capitale a tasso fisso che citavo prima. L'equazione sarà sempre la stessa. Questa equazione differenziale del primo ordine. E qui vediamo che in quasi tutti i problemi, questa è la prima ordine di cui parleremo, ci viene naturale avere come variabile indipendente il tempo, cioè parlare di evoluzione temporale, anche se in realtà la variabile x potrebbe essere qualunque altra cosa, non necessariamente il tempo. Allora, quello che vogliamo scoprire è se abbiamo un meccanismo per calcolare, non con una teoria analitica, l'evoluzione, come cambierà la grandezza nel tempo. Il primo metodo storicamente è quello di Eulero. Vi farò qualche commento dopo sul metodo di Eulero, ma vediamo in che consiste. Vediamo perché è proprio il metodo che consente immediatamente di smontare il giocattolo. In che consiste il metodo? L'idea è semplicissima. Io parto dal valore iniziale, conosco la variazione, me la dice l'equazione, quindi calcolo il valore dopo un piccolo intervallo di tempo, nel nostro caso. A questo punto considero il valore che ho ottenuto come valore iniziale, ricalcolo allo stesso modo la piccola variazione e ho il punto successivo. E così via, con santa pazienza. E passo 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 incremento, secondo l'equazione che ho, il valore della grandezza, così tracciandone poi il suo andamento in funzione del tempo. Questa è l'idea dell'integrazione di Eulero. Ha una giustificazione che può soddisfare un matematico? Sì, ed è importante perché fa vedere anche quali sono i limiti. D'altra parte vedremo anche quali sono i pregi, perché ha un pregio enorme, oltre ad avere un evidente limite. E vediamo qual è. Allora, se partiamo dallo sviluppo in serie di Taylor, questo che è riportato lì su, e andiamo a applicare la regola della derivazione di una funzione composta, non la leggo passo passo perché potete leggere da voi, otteniamo, nella forma che vedete nell'ultimo rigo, lo sviluppo in serie, lo sviluppo in serie partendo di... Niente, analisi standard, niente di che. Dopodiché buttiamo via tutto e ci teniamo soltanto i primi due termini e tutto il resto lo buttiamo. Col bel risultato della formuletta mostrata qua. Che è la più semplice del mondo? Io ottengo il valore al punto incrementato della variabile semplicemente prendendo il valore che avevo all'inizio e aggiungendoci il passo, l'incremento per il valore della funzione. Nient'altro. È semplicissimo. Quindi al primo passo, questo per sfondare porte aperte, la mia preoccupazione è sempre cosa succederebbe se uno studente leggesse questo, dovrebbe tenere i piedi per terra e vedere che la sua situazione, che c'ha tutto sotto controllo. Quindi al primo passo, y1 sarà y0, che è la condizione iniziale, più h per la funzione calcolata nel punto x0, y0. Io il punto iniziale so chi è, so quanto vale la funzione, la y, la variabile dipendente, è un conto numerico. Via. E poi vado avanti all'ennesimo passo. Ottengo questa come formula generale. Ma a questo punto è chiaro che stiamo approssimando, approssimando, quella che sarebbe la soluzione analitica la vera funzione, la stiamo approssimando a passi discreti con un poligono, in qualche modo. E se l'integrazione dura molto a lungo, cioè abbiamo da integrare per un grande intervallo di variazione nella variabile, è chiaro che il fatto di aver buttato via quei termini si fa sentire. Il rimedio è semplice, ma è un po' costoso. Vale a dire, si fa il passo più piccolo. Più è piccolo il passo, migliore è l'approssimazione. Se vado avanti a intervallini di tempo sempre più piccoli, seguo sempre meglio l'evoluzione. costo per molti inaccettabile quando si tratta di calcoli di una certa complessità e quindi si tende, sono stati inventati dei metodi che, come dire, allungano il passo un pochino per arrivare un po' più rapidamente in fondo. I quali vanno benissimo, sono più complicati dal metodo di Olero. Hanno due difetti. Dal punto di vista didattico, hanno il grosso difetto di risultare oscuri a chi dovesse, allo studente che dovesse vederli, perché sono formule un po' più complicate, non così semplici come questa, così evidente, così intuitiva come questa. L'altro problema è che se vi mettete a studiare un problema realistico, reale, con un'equazione tratta dal mondo dei fenomeni, eccetera, vi può anche capitare di imbattervi in situazioni in cui la soluzione, diciamo, ha dei punti di discontinuità o delle singolarità. In quel caso, gli algoritmi che si usano per allungare il passo possono dar brutte sorprese perché saltano a pie pari sui punti cattivi, mentre il metodo di Olero è il più robusto e funziona sempre. Bisogna avere solo la pazienza di prendere il passo, se necessario, abbastanza piccolo. Come vedremo, poi non è neanche tanto necessario prenderlo troppo piccolo. Facciamo subito un'applicazione diretta su un problema che è familiare. Metto un termometro nell'acqua bollente a 100 gradi, lo tiro fuori a temperatura ambiente 20 gradi e mi chiedo come cambia la temperatura letta dal termometro nell'intervallo di tempo in cui passa da 100 gradi all'equilibrio a temperatura ambiente. L'ipotesi fisica è semplice, la variazione di temperatura in ogni intervallo di tempo è proporzionale alla differenza di temperatura tra il bulbo del termometro e l'ambiente, cioè più il termometro è lontano dall'ambiente più rapidamente perde calore e la sua temperatura si abbassa mentre quando arriva vicino alla temperatura ambiente la differenza di temperatura è piccola perde più lentamente. L'equazione è quella del decadimento esponenziale riscritta semplicemente in termini di temperatura. Ma la formula era semplice. Questa era la formula da applicare. Allora se io qui al posto di y con n più 1 y, n, eccetera scrivo adesso i simboli del mio problema di termometro eccola qua ho l'equazione nella seconda riga t con n è uguale t con n è esattamente quella in cui tutto è riscritto usando la temperatura in proposto della generica y e il tempo come variabile indipendente e delta t come h il passo che sto usando ma questa è una formula algebrica che io posso scrivere in un foglio elettronico la scrivo nella prima cella e la copio nelle celle sottostanti e faccio tutto non c'è bisogno di andare a prendere software speciale o scrivere programmi o programmare tant'è che se posso mostrarvela qui nella prima colonna c'è solo un promemoria di chi è che cosa non serve a niente la prima colonna è un promemoria per scrivere nel file nella seconda memoria sono ripetuti i valori la temperatura iniziale la temperatura finale la costante di decadimento cioè con che ritmo il termometro perde calore e il passo temporale mezzo secondo il calcolo è prolungato per 60 secondi per un minuto il foglio elettronico non ci mette niente a calcolare 120 valori nella colonna c c'è il tempo 0, 0, 5, 1, 1, 1, 1, 2 in secondi nell'altra colonna nella prima c'è il valore iniziale nella seconda eccola qua la formula tutto ciò che cambierà in quelle successive sono i valori di 1 che diventa di 2 poi diventa di 3 poi diventa di 4 cioè diventa il valore precedente riparto dal valore precedente rifaccio il calcolo esattamente usando i parametri fissi restano fissi B 3 non cambia mai B2 non cambia mai B4 non cambia mai tutto quello che cambia nelle formule è di 1 che diventa di 2 di 3 di 4 di 5 e così via un gioco si scrive la formula una volta nella seconda cella nella prima c'è il valore fisso iniziale e si ricopia fine e che si ottiene beh la sfilza di numeri non è che sia entusiasmante si ottiene si ottiene ah un passant la soluzione analitica è una funzione esponenziale è un esponenziale decrescente questa soluzione analitica deve ricordare e che cosa otteniamo ecco qua ma niente male per aver buttato via tutti i termini dell'espansione di serie di Taylor su una funzione che non è lineare che è una funzione esponenziale con un passo di mezzo secondo 120 ci mettono un secondo il foglio elettronico fa il conto il confronto tra le croci che sono i punti numerici e la linea continua tratteggiata per la verità che fate fatica a distinguere probabilmente che è la curva esponenziale analitica direi che più che soddisfacente per qualunque finalità didattica però abbiamo visto in che consiste davvero l'equazione qual è il senso dell'equazione differenziale il calcolo della variazione ecco qui è evidente e funziona benissimo adesso adesso dobbiamo passare a qualcosa di meglio sistemi più complessi equazioni differenziali del secondo ordine la cosa si ripete in maniera più o meno analoga questa è un'equazione differenziale in forma esplicita e i valori iniziali il valore nel punto iniziale della funzione e della derivata prima tutto standard nel caso avessi un sistema prendiamo un sistema familiare come l'oscillatore armonico andiamo a riscrivere bene allora la mia x è il tempo t la mia y è s lo spostamento dalla posizione di equilibrio e questo è il valore iniziale dello spostamento e questo della sua derivata prima ma in realtà in un linguaggio più fisico e più vicino ai fenomeni noi la derivata prima dello spostamento la chiamiamo velocità quindi scriviamolo direttamente velocità e visto che la velocità è così definita posso anche riscrivere l'equazione in questo modo perché l'ho fatto vabbè è la scoperta dell'acqua calda l'equazione del secondo ordine con la sostituzione mostrata a questo punto diventa due equazioni differenziali del primo ordine questo è un gioco che si può fare con qualunque equazione di ordine n riducendola in questo modo definendo delle funzioni ausiliarie a un sistema di n equazioni del primo ordine l'ho fatto perché casomai a qualcuno saltassi in testa di andare a usare un software come si dice di alto livello che risolve equazioni differenziali quelle in genere non accettano equazioni di ordine superiori al primo perché vogliono direttamente in pasto il sistema di equazioni differenziali del primo ordine poco male è una cosa che si può sempre fare ma il fatto che siano due equazioni differenziali del primo ordine ci prepara anche al passo successivo per trovare immediatamente come trattarle perché si tratta di ripetere due volte il discorso fatto una volta per le equazioni del primo ordine e invece di uno sviluppo in serie di Taylor abbiamo due sviluppi in serie di Taylor uno per v e uno per s semplicemente come è mostrato nelle equazioni 3 e 4 sviluppo in serie formale scritto no, no sì sì nello sviluppo delle serie ecco nel 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 allora è mostrato nello sviluppo perché i termini successivi li ho già buttati via quello non è lo sviluppo in serie di Taylor questo è lo sviluppo in serie di Taylor per non perdere tempo è troncato facciamola finita subito tronchiamo subito tutti e due gli sviluppi in serie e allora con santa pazienza al primo passo calcolo la variazione della derivata e la variazione della funzione e quindi calcolo al secondo passo riparto dal nuovo valore della derivata e dal nuovo valore della funzione per calcolare la variazione della derivata e la variazione della funzione si è solo raddoppiato il lavoro precedente però il meccanismo non è cambiato è identico passo passo allo stesso modo e qui ho scritto le formule generali qui ho scritto le formule generali che si ricavano da quelle sopra potete provare che funzionano benissimo soltanto anche anche non soltanto anche per farvi notare che questa volta invece di avere un'approssimazione lineare della curva cioè a segmenti abbiamo un'approssimazione parabolica ad archi di parabola ma io questa cosa qui l'ho scritta comunque come dicevo prima per completezza perché sembrerebbe indegno fare una trattazione sul metodo di Eulero e non scrivere per bene le cose quindi stanno scritte qui per benino ma dal punto di vista didattico direi restiamo con i piedi molto per terra meglio sfondare una porta aperta perché sfondare le porte aperte dà sicurezza e allora facciamo una cosa dopo questa bella illustrazione del metodo di Eulero in generale applicata alle equazioni del secondo ordine prendiamo un caso in cui sappiamo benissimo come vanno le cose e quindi è tutto sotto controllo scopriamo l'acqua calda prendiamo il secondo principio della dinamica con una forza costante il risultato è un moto uniformemente accelerato e questo lo sappiamo già però noi facciamo finta di niente trattiamola come equazione differenziale del secondo ordine da integrare col metodo di Eulero per vedere come funziona e cosa ci dice questa equazione differenziale allora prima trasformiamo in due equazioni differenziali del primo ordine la velocità da s su dt e l'accelerazione del v su dt l'accelerazione è costante perché la forza è costante a è uguale f su m ed è costante perfetto allora scriviamo le equazioni di Eulero la prima equazione di Eulero è la derivata seconda cioè la derivata della velocità è costante è A costante la seconda equazione è l'ultima equazione scusate partiamo la derivata la derivata nel punto n più 1 è uguale alla velocità la velocità nel punto n più 1 è uguale alla velocità nel punto precedente più A per delta t ma questa è la formula della velocità nel moto uniformemente accelerato con velocità costante in una dimensione e riscrivendo la formula di Eulero quella è la formula di Eulero per lo spostamento troviamo che la posizione raggiunta al passo n più 1 è uguale alla valore della posizione precedente incrementata di v con n per t delta t più un mezzo a t al quadrato siamo sicuri che la cosa funziona abbiamo ottenuto tranquillamente quello che sapevamo ma l'abbiamo ottenuto questo per me è importante dal punto di vista didattico l'abbiamo ottenuto come prodotto del nostro approccio allo studio dell'equazione differenziale abbiamo visto così perché funziona e c'è una cosa da osservare subito che è inutile andare a graficare possiamo andare a graficare il grafico l'ho fatto ovviamente qui non c'è nessuna differenza tra i valori calcolati e la curva analitica perché i valori sono stati calcolati con una formula parabolica e la curva analitica è una parabola però è un caso fortuito non è la regola solo in questo caso semplice non c'è nessuna approssimazione nella formula di Eulero cioè non c'erano termini la derivata terza cioè la derivata della dell'accelerazione è nulla perché l'accelerazione è costante quindi la formula è esatta ovviamente così siamo tranquilli che tutto funziona secondo i nostri piani e ci possiamo allargare un pochino allora allora allarghiamoci un pochino visto che tutto è bene sotto controllo e qui possiamo andare incontro ai largamenti che sono un'esplorazione anche di cose che cominciano a diventare meno familiari la prima dovrebbe esserlo la prima è parlando del prima di tutto sia chiaro questo è il cosiddetto pendolo semplice perché è famoso come pendolo di Lourdes cioè quello che ha il filo inestensibile privo di massa è la massa puntiforme nessuno ne ha mai visto uno nessuno ne ha mai visto uno però facciamo finta che esistano i pendoli di Lourdes è che questo sia sia Lourdes 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 perché 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 se non li mette se non prende un pendolo reale lo bagna con acqua di Lourdes il filo perlomeno il filo e la massa li deve prima mettere bagno in acqua di Lourdes se no però fingendo di avere un oggetto del genere abbiamo sempre nei libri l'addizione per trattare questo problema in maniera elementare oscillazioni di piccola ampiezza piccola ampiezza è una cosa è una cosa un po' incerta piccola quanto? piccola che? quanto è piccolo? boh non si sa mai bene vediamo di capire se possiamo dare un senso a questo piccolo tra un attimo facciamo finta di sapere di che si tratta e cioè di essere autorizzati a sostituire il termine della componente tangenziale di richiamo meno g seno di fi seno di alfa in questo caso con sen alfa con meno g sen alfa linearizzando quindi la funzione seno così abbiamo un'equazione lineare poi possiamo complicarci la vita dicendo solleviamo questo vincolo delle piccole oscillazioni prendiamo oscillazioni qualunque quindi non siamo più autorizzati ad approssimare sen alfa con alfa lasciamo sen alfa e dal punto di vista della trattazione col metodo di Eulero passo passo che ci sia alfa o sen alfa è del tutto insignificante non porta a niente mentre dal punto di vista analitico sì perché quella che è una soluzione come dire da quattro soldi una funzione seno diventa un integrale ellittico completo di seconda specie che non sono sicuro che molti abbiano visto in vita loro che è una funzione analitica speciale che non capita a tutti di incontrare per la strada dal punto di vista invece dell'esplorazione dell'equazione no l'una vale l'altra poi c'è un buon motivo ve lo farò vedere per trattare una cosa che sarebbe altrimenti banale che è il pendolo smorzato cioè ci mettiamo l'attrito che volete che succede con l'attrito che il pendolo si ferma fine della trasmissione non c'è molto da dire però può essere utile perché ne ricaviamo un elemento che poi ci sarà utile in seguito e allora qui non mi sono sprecato a fare confronti con la soluzione analitica questa è la soluzione numerica sotto trovate i parametri l'angolo alfa è di il passo scusate temporale di 0.02 secondi il valore iniziale è di 0.02 radianti circa 10 gradi di ampiezza ecco il pendolo viene lasciato con un'ampiezza iniziale di circa 10 gradi viene lasciato a se stesso la curva rossa parte quindi da 0.02 radianti una decina di gradi e va avanti la velocità curva blu è sfasata perché se uno è seno l'altro è coseno la derivata è coseno quindi è sfasata ed eccole qua niente niente di che tutto tranquillo il motivo lo strano motivo apparentemente strano per la scelta di una lunghezza qui quando si fanno gli esempi dovete tenere sempre ben presente che bisogna sceglierli per arrivare dritto all'obiettivo col minimo sforzo qui questa strana lunghezza di 0.993 metri nel pendolo è perché così dà esattamente un periodo di due secondi e quindi facendo il grafico si vede bene chi si sta il massimo a ogni a ogni barra della griglia di riferimento e si vede bene dove stanno i periodi semplicemente non ha altri altri motivi facciamo un'altra un'altra passiamo attraverso un'altra porta sfondata sempre perché servirà dopo e cioè andiamo a rappresentare la velocità in funzione della posizione se vi pare potete fare pure il contrario non cambia niente si la figura ruota di 90 gradi che cosa ci dice questo? beh ci dice semplicemente che velocità e posizione ripercorrono ripercorrono sempre in questa rappresentazione la stessa traiettoria riprendendo a ogni periodo gli stessi valori e passando attraverso gli stessi valori a ogni periodo va bene immaginate un punto che si muova su questa traiettoria rappresenta i valori di velocità e posizione i quali sono periodicamente sempre lo stesso va sotto il nome di spazio delle fasi del pendolo e per adesso è carino da vedere è un ellisse e più di questo non dice andiamo avanti adesso solleviamo il vincolo dell'ampiezza e cioè parto sparato con un'ampiezza iniziale di due radianti due radianti su più di 100 gradi 104 e passa gradi a 105 gradi quindi siamo sopra i 90 gradi e certo non è a occhio non è piccola via e guardate già di qua qualcosa si nota io ho sempre lo stesso passo di integrazione ho sempre la stessa lunghezza del pendolo tutti i parametri sono stati lasciati identici quello che è cambiato è solo il valore dell'angolo iniziale tutto il resto è identico e l'integrazione è sempre condotta avanti per 10 secondi ma non ho più un periodo ogni 2 secondi invece di avere 5 oscillazioni complete in 10 secondi ora ne ho 1 2 3 è un poco non più 5 significa che il periodo è aumentato e che il periodo sia aumentato lo si può vedere se vado a confrontare sullo stesso grafico la soluzione calcolata le croci rosse è la stessa curva rossa mostrata un attimo fa quindi la posizione in funzione del tempo con la curva verde che sarebbe quella relativa alla soluzione di pendolo semplice se fosse ancora valida l'approssimazione lineare ma evidentemente non lo è più perché lì dovrei sempre avere vedete la verde ha 5 periodi interi e questa no il periodo si è allungato allora che significa piccole oscillazioni possiamo dare un senso finalmente piccole oscillazioni significa che la variazione del periodo che posso avere cambiando l'angolo deve essere minore di quella che i miei strumenti di misura mi permettono di rilevare insomma se io uso il battito del polso come faceva il buon Galileo con la lampada nel duomo di Pisa le oscillazioni soisocrone cioè hanno sempre lo stesso periodo anche per angoli di 90 gradi se fosse arrivato lì il sacrestano un po' arrabbiato e avesse dato una botta alla lampada a pulsazioni il periodo gli sarebbe parso sempre lo stesso ma se invece vado a traguardare il sistema con laser fotocellule e uso cronometri elettronici al millesimo di secondo e no piccole significa che per vederle isocrone magari devo scendere sotto i due i due i due i due gradi altrimenti vedo subito che il periodo varia quindi piccole oscillazioni grandi oscillazioni è un concetto nel fenomeno legato semplicemente alla nostra capacità di misurare in maniera più o meno fine il periodo va bene per curiosità tanto lascio il tempo che trova ecco anche nel caso vedete nello spazio delle fasi la traiettoria velocità posizione che è sempre una bella traiettoria che viene percorsa periodicamente solo che si vede che non è più nell'issesi è un po' ampiazza tra i radianti qua siamo a 150 gradi e passa e qui questa volta proprio a nessuno viene proprio in mente che la soluzione possa essere un seno o un coseno ormai siamo troppo troppo lontani da un seno coseno qui veramente l'integrale ellittico di seconda specie fa il suo mestiere ma ma noi abbiamo una bella ma 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 comunque il sistema è periodico va bene che è una cosa buona ma il sistema è periodico perché siccome non ci abbiamo messo niente che consumi energia o che aggiunga energia che volete che faccia sto poveretto sempre la stessa cosa si annoierà ma farà sempre la stessa cosa comunque è periodico ci conforta solo che se adesso andiamo ecco a guardare nello spazio delle fasi vediamo vabbè è diventato un pallone da rugby grosso modo da football o da rugby sistema periodico la traiettoria si è modificata non ci serve a granché queste sono tutte cose fatte tanto per e adesso qui ci abbiamo messo l'attrito la soluzione è evidente si tratta di una funzione di tipo seno o coseno ma di ampiezza decrescente nel tempo tutto numerico naturalmente sotto ci sono i parametri di integrazione tutto col metodo di eulero c'è scritto quanto vale il passo vedete che non c'è bisogno di granché per fare questo con un foglio elettronico si fa una meraviglia però vediamo un momento una cosa che arricchisce il nostro linguaggio questo è quello che succede nello spazio delle fasi ecco la cosa comincia a diventare un po' più divertente perché adesso la si può proiettare prima era lì un cerchietto ma adesso questo è più divertente perché c'è qualcosa che si muove e cosa succederà? succederà inevitabilmente inesorabilmente che quel punto andrà a finire nel punto 0 0 verticale fermo ovviamente è il primo esempio banale sempre andiamo con la te sempre nella linea dell'acqua calda della scoperta dell'acqua calda di un attrattore cioè di un punto o di un luogo geometrico nello spazio delle fasi che finisce per essere la residenza definitiva del sistema in questo caso è una residenza ovvia si ferma sulla verticale e quindi finisce giù è finito non dura molto il divertimento i film durano poco abbiamo visto un attrattore quindi una traiettoria che descrive un'evoluzione leggermente meno banale della traiettoria chiusa costante e abbiamo inventato il termine attrattore qui è statico ma è più divertente vedere che si muove perché si capisce qual è la storia del sistema perfetto adesso facciamo il nostro ultimo passo poi vi accennerò a un possibile passo successivo ma vedrete il discorso cambierebbe e non sono sicuro che didatticamente possa essere valido per più di uno studente su mille quindi restiamo in un ambito che è ancora accessibile oscillatore armonico forzato se io innanzitutto badate bene ho dovuto scegliere e dopo spiegherò perché prima di un accenno al passo successivo ho dovuto abbandonare il pendolo ho dovuto abbandonare il pendolo e ripassare all'oscillatore armonico e vi dico perché perché l'equazione doveva essere lineare e questa è un'equazione lineare ho dovuto metterci un termine esterno perché questo rappresenta il progresso successivo e c'è un sistema a differenza dei sistemi precedenti non autonomo i sistemi precedenti che abbiamo visto come dire se la cantano e se la suonano da soli libero sono liberi di fare quello che vogliono questo è un sistema che non è libero di fare quello che vuole ha un termine esterno seno omega e t f su m seno omega e t che dall'esterno compie un lavoro immette energia ci sono due modi per immettere energia nel sistema e quindi rendere il sistema non autonomo perché questo è il punto adesso l'equazione è non autonoma uno è quella di avere un termine esplicitamente dipendente dal tempo come questo esterno un termine forzante esplicitamente dipendente dal tempo avrete notato pure che in tutte le equazioni precedenti se io avessi scritto la funzione da uguagliare a zero formalmente come equazione differenziale il tempo non sarebbe comparso esplicitamente sarebbe comparso solo attraverso la variabile dipendente e la derivata prima mentre qui c'è un termine esplicitamente dipendente dal tempo e questo è un modo l'altro modo quindi questa è l'altalena se volete con qualcuno che spinge il bambino sull'altalena dall'esterno l'altro modo però sapete che il bambino può andare anche da solo in altalena se è bravo si ingegna comincia piano piano e riesce ad andare da solo senza aiuto i bambini più grandi lo fanno come fanno ma lo fanno spostando il centro di massa del sistema lavorando con la schiena e le gambe e cambiando continuamente vabbè fanno un lavoro che non è dato dall'esterno ma è dato dal fatto che a quel punto l'equazione che descriverebbe quell'oscillatore non sarebbe più a coefficienti costanti avrebbe un coefficiente quello della forza di richiamo che è dipendente dal tempo modulato nel tempo dal bambino quindi potete avere un sistema non autonomo sia con un coefficiente non costante sia con un termine esterno il caso comune circuiti RLC serie terremoti cose simili all'altalena oscillatore armonico forzato ideale più o meno beh quelli hanno un termine esterno e qui potete andare a divertirvi a calcolare le soluzioni per vari valori della frequenza proprio cosa succede in un sistema del genere in un sistema del genere succede che se ignorate il pezzo a destra vedete che l'oggetto ha una sua frequenza propria di oscillazione omega 0 e però si smorzerebbe sarebbe un oscillatore smorzato e si fermerebbe ma ha una sua autonomia quando è autonomo oscillerebbe a modo suo per quanto vale la costante elastica k e la massa dell'oscillatore quello determinerebbe il termine esterno invece ha la frequenza sua che è diversa generalmente e pretende che l'oscillatore oscilli come dica lui che succederà succederà che prima o poi l'oscillatore perde perde l'autonomia per forza perché l'autonomia dell'oscillatore viene ammazzata dalla dissipazione dall'energia persa quello esterno invece continua imperterrito finché non togliete la spina della corrente il generatore continuerà a produrre un segnale sinusoidale che continua a eccitare l'oscillatore rlc e così via e alla fine la spunta come avviene il passaggio avviene attraverso due fasi una di competizione tra le due frequenze e poi c'è uno stato finale in cui tutto si acquieta vince comunque il risultato può essere anche diverso a seconda di quanto diversa sia la frequenza del generatore esterno dalla frequenza dell'oscillatore e uno può andarsi a esplorare queste cose a suo piacere a me interessa mostrarvene una soltanto molto semplice innanzitutto questo è per una scelta di parametri che sono che sono descritti sempre qui sotto nella didascalia e con un valore iniziale 0 0 cioè supponendo che all'inizio l'oscillatore sia fermo e poi c'è la forza esterna che lo mette in moto però uno può scegliere una cosa qualunque questo sempre con il metodo di Eulero sempre nello stesso modo con questi parametri vediamo la posizione dell'oscillatore in rosso e la velocità dell'oscillatore in blu vedete che c'è una parte iniziale come dire un po' incerta i primi due tre periodi e poi e poi e poi tutto va avanti in maniera ma guardiamoci il filmato nello spazio delle fasi sì grazie a tutti ecco direi che da questo punto in poi non vedete più niente anche se il filmato dura ancora per un minuto e mezzo perché non vedete più niente perché ormai sta su una traiettoria che continua a percorrere indefinitamente e quindi abbiamo visto qual è la parte del transiente cosiddetta del transiente la parte cioè di competizione tra le due tra i due periodi di oscillazione quello proprio e quello forzante è la fase in cui quello forzante ha vinto e ormai sta lì e non se ne parla più non la vedete più sta su un cerchio allora questo ci fa capire che innanzitutto noi possiamo avere un'idea dell'evoluzione di un sistema anche in situazioni un po' più complicate di quelle che ho mostrato io perché uno può prendere in esame oscillatore di Van Der Poel o oscillatori non lineari di qualche tipo e andare a guardare nello spazio delle fasi e va a guardare magari che c'è una periodicità doppia che ci sta un percorso più o meno complicato tutte cose che in linea di principio sono già contenute ecco adesso è finito il filmato tutte cose che sono già contenute qui è tutto già qui perché è stato solo rigraficato in un altro modo questo quindi quando io calcolo le soluzioni della funzione della sua derivata prima ho tutto ma non si vedono non si vedono facilmente in quel modo lì invece si vedono molto facilmente e ci dicono allora che prima avevamo visto la situazione in cui c'era un attrattore che era un punto adesso abbiamo un attrattore che è una traiettoria chiusa quindi abbiamo un attrattore un po' più complicato ma l'attrattore può essere anche una cosa più complicata di una traiettoria semplicemente connessa può essere anche qualcosa di un otto o qualcosa del genere può essere dipende dai sistemi è uno strumento di esplorazione ora quale potrebbe essere il passo successivo che ha fatemelo riaprire un attimo che però come dire potrebbe potrebbe solo in casi estremi anche se naturalmente è il più bello ma vedete il passo successivo potrebbe essere quello di farlo questo passaggio dall'oscillatore lineare innanzitutto un'osservazione noi non possiamo dire vabbè facciamo finta di trattare il pendolo semplice per piccole oscillazioni con un termine forzante esterno questo non lo possiamo dire perché sarebbe una contraddizione sarebbe incoerente perché perché nel momento in cui io parto da piccole oscillazioni e però applico una forza periodica esterna questa forza periodica può tranquillamente farmi aumentare la forza delle oscillazioni io non ho nessuna garanzia l'ampiezza delle oscillazioni io non ho nessuna garanzia che le oscillazioni resteranno piccole quindi non posso partire con un'equazione che descrive solo le piccole oscillazioni per una situazione fisica in cui le oscillazioni invece diventano inesorabilmente grandi allora se vogliamo il pendolo ce lo dobbiamo mettere e cioè invece di omega quadro zero x e lì ci dobbiamo mettere un bel sen x o qualcosa del genere cioè dobbiamo ritornare alla forma non lineare riprendere l'equazione del pendolo per grandi oscillazioni pendolo smorzato per grandi oscillazioni cosa che e aggiungerci il termine forzante esterno solo che qui andiamo a incappare no non in un disastro una cosa bellissima ma che va molto al di là di tutto quello che si potrebbe desiderare dal punto di vista didattico perché perché un sistema non lineare del secondo ordine non autonomo è proprio il sistema minimo più semplice nel quale nascono i fenomeni del cosiddetto caos deterministico cioè si va incontro si va incontro a situazioni nelle quali si può avere un comportamento periodico un comportamento con periodicità doppia quadrupla multipla un comportamento aperiodico addirittura e tutto questo dipenderà dal valore dei parametri costanti perché siamo sempre a coefficienti costanti però dipende dal valore dei coefficienti in quale zona dello spazio delle fasi si va a cadere e quindi se ci sarà un attrattore che significa comportamento periodico anche un attrattore complicato magari o ci sarà un'altra cosa che i matematici chiamano attrattore strano e cioè un comportamento da caos deterministico con biforcazioni e cose del genere o una situazione proprio di sforamento nel caos sistema che non è facile a livello amatoriale diciamo anche quando io lo faccio l'ho fatto così per divertimento non è facile esplorare a livello amatoriale va esplorato a livello professionale perché non è che non si vada bene anche il metodo di Epleur ci vuole tempo ma va benissimo no no il problema è un altro che diventa un sistema talmente cattivo un sistema non lineare che per niente succede che andate a guardare la traiettoria nello spazio delle fasi e questo continua a girare a vanvera per 10.000 giri e poi all'improvviso quando pareva che stesse per spegnere dicendo basta questo è aperiodico padam cade in un attrattore e diventa periodico è stato il rumore dell'integrazione numerica è stato soltanto il fatto che era scritto nella Bibbia che il suo transiente doveva durare più della vostra pazienza chi lo sa resta il dubbio ma la cosa quindi va esplorata con tecniche metodologie e altro piuttosto impegnative sembra un piccolo passo mentre non era poi un gran passo prima nel pendolo non forzato passare dalla forma lineare alla forma non lineare per le grandi oscillazioni in questo caso quel piccolo passaggio cambia la natura del problema in maniera inaccettabile per il tipo di finalità che ci stiamo proponendo in questo momento bene io non ho altro da aggiungere quindi se voi avete qualcosa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti